Nuova tappa dell'escalation nucleare iraniana. Teheran ha fatto sapere di avere cominciato a introdurre gas uranio all'interno delle sue centrifughe, portando così a 4 le violazioni dell'accordo sul nucleare siglato nel 2015. L'annuncio è arrivato subito prima della visita di Cornel Feruta, capo ad Interim dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, atteso nella capitale iraniana per incontrare funzionari di alto livello. L'Europa, nel tentativo di salvare l'accordo sul nucleare del 2015, ha chiesto all'Agenzia di monitorare da vicino l'operato di Teheran, ma è un tentativo azzoppato dal mancato sostegno degli Stati Uniti, che l'anno scorso hanno deciso di ritirarsi unilateralmente dall'intesa. L'Iran ha iniziato a iniettare gas uranio nelle sue centrifughe, lo ha confermato Beruz Kamalvandi, il portavoce dell'Agenzia Atomica del Paese, aggiungendo che Teheran ha attualmente in funzione 20 centrifughe IR4 e 20 IR6. Kamalvandi ha detto anche che l'Iran ha la capacità di arricchire l'uranio ben oltre la soglia del 20%, ma che per ora si concentrerà sull'ampliamento delle sue scorte di uranio arricchito al 4,5%, vale a dire il livello a cui è arrivato violando l'accordo sul nucleare del 2015, che aveva invece fissato al 3,67 la percentuale di arricchimento consentita. Da Kamalvandi è arrivato anche un ultimatum, l'Europa sta esaurendo il tempo per salvare l'accordo sul nucleare.